Questa volta sorride perché è riuscito a portarlo a casa lui il derby, Giovanni Dato, lui e la sua palla nuoto. Come hanno ammesso i ragazzi della Como nuoto che oggi siete stati superiori? Giovanni, cosa avete avuto in più? Sicuramente abbiamo avuto grinta, determinazione, voglia di riscatto, ma l'abbiamo affrontata come una partita normale di campionato contro una squadra che era otto punti avanti a noi, quindi la classifica parla. Noi abbiamo tanto da lavorare, sono contento sempre per la cornice di pubblico che c'è stata in Piscina che è stata la cosa più bella e più importante per la città, sono contento per i ragazzi, per la squadra, sono contento appunto del tifo, un po' di corri spiacevoli ma ci stanno perché quando si perde si rosica e quindi andiamo avanti, loro sono stati bravi, sicuramente gli mancava forti, che corrotta. Se vogliono prenderla come giustificazione che la prendano, ma hanno giocato tutti bene, dai giovani a Emilio, a Garancini che me ne ha tolto i due, mi ha dato questa gioia. Un po' spigoloso come derby, un po' spigoloso, un po' di espulsioni Giovanni. No, tante espulsioni, nel ultimo tempo ne abbiamo preso forse una decina contro, abbiamo giocato, è stata una bella partita tosta, fisica, ma questa è la palla nuota, quindi sono comportati tutti bene, sono contento. Complimenti a voi allora, grazie Giovanni, ciao, grazie, ciao.